Abbigliamento, casalinghi, ma anche specialità alimentari provenienti da tutta Italia e come da tradizione, vimini, erticoli in legno. Torna ad Arezzo la Fiera del Messolo, in programma il 9, 10 e 11 settembre. Quest'anno, dunque, i giorni di svolgimento sono rispettivamente un sabato, una domenica e un lunedì. Il classico appuntamento fialistico a retino, dedicato all'indispensabile utensile, si svolgerà in zona Eden. Saranno circa 250 i banchi di ambulanti e commercianti dislocati in città, da via Spinello a via Niccolo a retino, da via Guadagnoli a via Margaritone. Il percorso, però, quest'anno si accorcia. Non ci saranno, infatti, banchi né in via Pietro a retino né in via Sab, presente, come sempre, il Calcit in piazzetta ai Dogori, con la tradizionale offerta del mestolino. Iniziativa che va avanti dal 1999, anno in cui il Comitato presentò il mestolo più grande del mondo, alto oltre 5 metri. Il ricavato sarà destinato al servizio di cure domiciliari oncologiche, servizio scudo. Grazie a tutti. Grazie.